Ho il grande piacere della prima volta che ci incontriamo di persona e mi dispiace incontrarti in un'occasione così, però io oggi non la voglio vedere come una giornata triste, ma come una giornata delle tante, esatto, assolutamente. C'è il sole, una cosa, una battuta al volo prima della celebrazione, io oggi vedo l'assenza della politica, il sindaco alemano, non so se è mandato… A me non è una sorpresa, fa parte del sistema, quindi credo che sia andata via veramente l'unica persona innanzitutto, forse anche l'ultima, che ha contribuito veramente all'apertura di questo sistema, al costume, agli italiani, io credo che grazie a Riccardo se l'Italia è diventata così come un po' più aperta a questo sistema, a questo mondo, a questi artisti un po' particolari, lo dobbiamo tutti a lui. Io credo che soffriamo un po' a essere un paese profondamente cattolico, io non è che voglia essere provocatori in una regione del genere, però trovo che, ripeto, non è giusto definirlo il re del porno, ma è comunque costume italiano, ha rappresentato il costume italiano. Costume, ma l'apertura totale alla vita e a tutto quello che c'è di bello nella vita. Grazie a te. Grazie a te.